Ma non sono molto... Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video della vanilla insieme Oggi sono da solo, non c'è Kendall in questo momento, lo stiamo aspettando cagnolino Perché oggi ho intenzione di fargli uno scherzo incredibile Non ho dormito quante notti, saranno state tre notti che non ho dormito per architettare questo scherzo Però verrà uno scherzo veramente incredibile, wow Avrò bisogno dei diamanti, infatti ne ho trovati alcuni in una miniera laggiù Mamma mia che bello, sono troppo agitato ragazzi, non vedo l'ora di fare questo scherzo Voi mettete subito un grandissimo like perché bisogna continuare Sì, bisogna continuare a fare questi scherzi a Kendall perché ci divertiamo troppo Allora, ho bisogno, ho bisogno della pietra raffinata, vediamo Per fortuna so del carbone, quindi iniziamo a raffinare della pietra Ecco, perfetto, intanto che la pietra si raffina vi faccio vedere dove farò questo scherzo Perché sarà uno scherzo epico Intanto posso rompergli un vetro? No, sto scherzando, non gli rompo il vetro, glielo rompo sempre poverino Poi se lo deve sempre ripagare Allora ragazzi, il piano, il piano per lo scherzo è questo qua Vedete, qui ho una mappa Ho una mappa perché gliela lascerò in una delle sue casse In modo tale che lui venga di sua volontà qua Quindi io devo cliccare con il destro Ok, perfetto, vedete Questa è la mappa È la mappa dove lui deve arrivarci Solamente che io ho bisogno di metterci un segno Un simbolo qua Quindi devo craftare, sì, devo craftare uno stendardo Però prima di craftarlo voglio farvi vedere questa grotta incredibile Perché ho scavato un pochettino E guardate cosa ho trovato Una grotta artificiale Wow, che va giù, va giù, va giù, va giù Va un bel po' giù Giù, 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 giù E guardate proprio qui Che cosa c'è? I diamanti, guardate Non li ho presi perché io mi metterò dietro quei diamanti In modo tale che Kendall arrivi qui da solo Una volta che vedrà i diamanti Inizierà a scavare E io dietro gli darò un colpettino E lui cadrà nella lava, mamma mia Lo so, è abbastanza crudele Però devo riuscirci È uno scherzo super È uno scherzo incredibile Allora adesso devo andare di sopra Prendere la pietra E devo andare a prendere gli stendardi E per fortuna Kendall aveva della lana bianca Allora vediamo Stendardo, lo stendardo Perfetto, stendardo bianco Come si faceva il simbolo? Si doveva rinominare forse? Proviamo a rinominarlo con Cavolo non ho i livelli, non ci posso credere Non ci posso credere Devo andare anche fuori A uccidere qualche mostro A meno che non ho qualcosa nelle fornaci Potrei avere qualcosa nelle fornaci? Altrimenti commercio con te carciofo eh Vediamo, ti prego Fa che ho qualcosa nelle fornaci Fa che ho qualcosa Vediamo Ma porca miseria Non arriverò mai a tutta questa esperienza Qualcosa che mi dà esperienza? Degli smeraldi? Ti prego carciofo Devo commerciare Allora, barche, 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 barche Legno, legno, legno Ok Adesso ti do un sacco di barche carciofo eh Ti prego carciofo Dammi un po' di esperienza Mi serve cavolo Prima che arrivi Kendall Che cosa? La barca di quercia vuoi? Ma che ladro questo villager E con questi? Nemmeno con questi posso comprarti qualcosa Mamma mia Questi villager spilorci Vediamo Aspetta, aspetta Assi di quercia Guardate quante barca che ho dovuto fare Sei proprio uno spilorcio carciofo Allora ti prego Dammi dell'esperienza Vengo anche qui dentro eh Vediamo Uno smeraldo Sì Vai Un altro Bravo Grandissimo carciofo Grazie Mi ha aiutato tantissimo Darò la colpa anche a te per questo scherzo Grazie carciofo Grazie Allora vediamo Adesso Devo andare da Kendall Perché lui ha l'incudine La pietra l'ho già presa Perfetto Mamma mia Sta venendo tutto alla perfezione Adesso devo rinominare Veloce velocemente Lo stendardo Qua dentro Oh no Porca misera Stendardo E sappiamo tutti che Kendall Non è mai puntuale Potrebbe arrivare prima Come potrebbe arrivare dopo Veloce 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 Stendardo 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 Ecco anche i mostri Ci mancavano anche i mostri No mostri No porca miseria No sono troppi Devo andare a dormire Facciamo che metterò Questo stendardo Domani mattina Altrimenti ci rimetto le penne E levatevi Maledetti mostri Allora andiamo a posizionare Il nostro stendardo Ecco lì c'è un altro Creeper Perfetto Lo possiamo mettere Qua Vediamo Oh porca miseria Ecco perfetto Un Creeper Maledetto Quindi lo mettiamo qua L'ho rinominato Tesoro Dovrebbe Essere rinominato Adesso devo ricoprire Tutto qua In modo tale Che non si veda Grazie Creeper Grazie Proprio bravo bravo Prendo un piccolo pezzo di terra E lo mettiamo qua Fammi Eh vabbè Sì che cos'è oggi Oh mio dio È entrato Kendall Non ci posso credere È entrato Kendall Veloce Veloce No Ecco Qui ce l'ho fatta Ecco Dovevo solo premere così Perfetto Adesso devo ricoprire Velocissimo qua Cavolo 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 Speriamo che non mi veda Speriamo che non mi vedi Veloce 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 Chiudi Chiudi qua Chiudi qua Ok Ok Ma è in TS Ma dove è finito Ma c'è su TeamSpeak Veloce 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 Devo andare a casa sua Dove è finito Dove è finito Speriamo che sia al supermercato Forza forza Ma perché non lo sento parlare Che cosa succede Kendall mi senti Kendall mi senti Piano Sono andato a prendere Da casa Non lo sapevi Non lo sapevi Dove vado Cioè sicuramente è sicuramente Sezione è praticamente pronta Cavolo 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 aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia aspetta aspetta ok quanti ne vuoi minimo cinque ma non sono ma che cavolo fai ma sei impazzito bella faccia ciao oh porca miseria qual buon momento ti porta qui ora tu resti qua vuoi diamanti era una trappola tua vuoi diamanti guarda dammi diamanti ci sei cascato lo ho trovato io e li voglio io no fermati ma quanti questo maledetto mamma mia che scherzo che scherzo che ti ho fatto sei stato proprio stupidino io ho fatto tutto questo scherzo per farti un super scherzo ed è venuto praticamente perfetto cosa ci fai con una barca all'interno della caverna mi sono nascosto qua ho piazzato della pietra ti ho messo la mappa io in casa ho scritto tesoro con uno standard ma come hai fatto a fare questa scritta con uno standard è facilissimo rinomino nello standard ci clicchi col destro sulla mappa e il gioco è fatto vai nella lava ehi basta lo sapevo che non mi dovevo fidare lo sapevo io me ne torno a cazzo dai dica a te è piaciuto almeno no non mi è piaciuto ho architettato tutto per te dai non mi è piaciuto è colpa anche di carciofo ragazzi non mi piace no 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 lasciate tutti un gran mi piace perché so che mi piacciono gli scherzi che faccio a Kendall Kendall dove sei? me ne sto andando no dai facciamo pace mi hai rotto pure l'elmetto in ferro mi hai rotto io me ne vado a dormire dai ti do il diamante li puoi tenere quei diamanti ok? me ne devi dare cinque sì cinque guarda avevo anche 43 smeraldi nell'inventario non me ne ero accorto ah sì? molto molto interessante tieni ti do tutti gli smeraldi ti darò tutto quello che vuoi ecco oh no questa è diventata la tua nuova tomba no la mia nuova casa ragazzi lasciate un grandissimo like per questo nuovo scherzo a Kendall gli è piaciuto veramente tanto come no non mi è piaciuto gli è piaciuto gli è piaciuto lasciate like e noi ci vediamo domani con un nuovo fantastico video ciao ciao